Ciao, sono Ilaria, sono gli insegnati di propedeutica al pianoforte e di propedeutica musicale. Ciao, sono Davide, insegno chitarra, sia classica che moderna, qui al BT Music. Ciao, sono Ilaria, sono gli insegnati di propedeutica al pianoforte e di propedeutica musicale. Venite a fare una prova gratuita qui alla BT. Vi aspettiamo! Ciao! Ciao! I'm a bad guy Duh! 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 Duh!